... ... guarda un po 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 grande oh c'è pure Stefano attenzione 1-1 sì bella raga bella bella lì bella raga adesso stiamo a 3 minuti e 10 3 minuti e 10 sì ecco lui dai Filippo Luca già se tu che c'è la panza se ti metto a dieta taglia taglia dai 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 vai lascia calma 10 secondi si si l'ho chiamato vai 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 18 18 19 20 20 Grazie. 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 Cambio. Sit. Grazie. 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 E che cazzo! Mi stai a muovo! Non lo tiro! Se ne trie! Se ne trie! Madonna! Oh, ma che dai vieni? Voi sei male, tu! Eccola! Come vieni! Noi non mi scampi un po' Scusi! Vieni si! Vieni si! Vieni si! Guarda la mia! Scusi! Poi vieni! Scusi! Sporre le mie! Vieni si! A presto cambio ahhh 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 heeheh Ah, che nozza. Ah, che nozza. Grazie. 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 ma guarda che primo ha detto batteria scarica c'è un regano stasera cambio c'è un regno c'è un regno la salata funzionale 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 di qua, di qua, suoletta tira Grazie. 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 No, tra due minuti. Filippo però No, sei Flavio Cambio Ecco Mario Che strilli Filippo Roberto Stefano però Perché non l'hai segnato? Con il cuore Non molare comunque Sì quando gliela fa Non molare comunque Bravo Così Così devo Sì quando l'hai segnato? Sì quando l'hai segnato? Sì 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 Allora passavigliela Sì 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 Allora passavigliela Allora passavigliela Allora passavigliela Allora passavigliela Sì 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 Allora ma Au Allora passavigliela Allora passavigliela Sì è buono ragazzecca Sì. 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 Qui c'è già? Grazie. 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 Va bene. Georgina, ho posto? Sì. Tutti la fate fuori, disgraziati. Cambio, eh. La vado io un po'. La vado io. Dai, io stai. Grazie. 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 Lo stavo a dire però. Faccio anche questo. Siamo uno di nero. Ci non fate il movimento a smarcare. Ce l'ho ricevuto così. Tutto l'avevi la mano qua. Non è la cosa c'è. Non è la cosa c'è. Non è la cosa c'è. Guadatisf Jaapop. Non è la cosa c'è. Questa è la cosa... Si è qui, si. La Romagna. Ne trovate świat, Grazie a tutti. 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 Cambio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.